16 arresti antimafia a Palermo. L'inchiesta ruota intorno al mandamento mafioso di Tommaso Natale e allo scontro per il vertice del clan. La procura antimafia di Palermo tramite i carabinieri ha disposto il fermo di indiziato di delitto di 16 persone. Indagate a vario titolo di associazione mafiosa, tentato a omicidio, estorsioni, danneggiamenti, minacce aggravate e detenzione abusiva di armi da fuoco. L'inchiesta ruota intorno all'ammandamento mafioso di Tommaso Natale e in particolare alle famiglie di Tommaso Natale, Partanna Mondello e Zen Pallavicino. Tra gli indagati vi è anche un capomafia storico, Giulio Caporrimo, che in libertà dopo una lunga detenzione si è fronteggiato con la nuova leadership di Francesco Palumerri. È sceso al vertice del clan dopo la riorganizzazione degli assetti mafiosi, seguita agli arresti dell'operazione Cupola 2.0. Dopo aver trascorso un periodo di isolamento a Firenze, Caporrimo, l'11 aprile del 2020, è rientrato a Palermo, riuscendo in poco tempo ad accentrare nuovamente su di sé i poteri dell'intero mandamento ed evitando gli spargimenti di sangue che sarebbe stato comunque disposto ad affrontare. I dissidi tra Caporrimo e Palumerri sono testimoniati da una intercettazione ambientale in cui Caporrimo, a proposito di se stesso, ferma «Io sono cosa nostra!» e poi, nel riferimento a Palumerri e ai suoi amici, aggiunge «Loro sono cosa come ci viene!» diciamo. Ecco i fermati! Andrea Mancuso, 22 anni, Francesco Palumerri, 60 anni, Giuseppe Rizzuto, 33 anni, Baldassare Rizzuto, 24 anni, Antonino Vitamia, 56 anni, Michele Zito, 46 anni.